Questa presentazione è trasmessa grazie agli amici del Ministero di Amazing Facts. Lo scopo di questa breve avventura che avete in questa vita è di determinare l'eternità. E molte persone sono desiderose e pronte a sacrificare l'eternità per godere dei piaceri temporanei di questa vita. Benvenuti nuovamente a un altro seminario sulle pietre miliari della profezia. Questa sera studieremo un argomento che trovate nelle profezie della Bibbia e che riguarda il Regno dei Cieli. Nello specifico, la lezione di stasera è intitolata Il Regno Meraviglioso e si basa sulla storia che trovate nelle vostre Bibbie sull'esperienza di Re Salomone. Quando guardate la storia di Israele noterete che ha degli alti e bassi, ma se prendeste un punto della storia di Israele al suo massimo splendore, corrisponderà al Regno di Re Salomone, in particolare con l'arrivo della Regina di Sheba, perché ci racconta dell'obiettivo che Dio aveva per il suo popolo. Ci dice, voglio che siate una nazione di re e sacerdoti, voglio che tutte le persone vengano da voi e sappiano di me. Il Tempio era già stato costruito, tutto era nuovo di zecca, Salomone aveva già costruito la sua casa, c'era grande ricchezza e prosperità, la pace regnava ai confini e a quel tempo la Regina di Sheba aveva sentito parlare della saggezza di Salomone. Salomone. Veniva da un paese molto ricco, da qualche parte vicino all'Arabia Saudita, con una grande carovana, portò animali, doni e altri tesori a Salomone e tutto ciò che chiedeva era, voglio farti delle domande, perché per lei la cosa più importante erano la verità e la saggezza. Voleva soltanto vedere chi era il Dio che Salomone venerava. Avete mai sentito l'espressione, ho avuto un'esperienza mozzafiato? Viene dalla regina di Sheba. Dopo aver visto la casa di Salomone e il Tempio di Dio, gli alloggi dei suoi servi, le vesti e la ricchezza del regno, e dopo aver sentito le risposte a tutte le sue domande, la Bibbia dice che rimase senza fiato. Era fuori di sé dalla meraviglia, fu una visione mozzafiato. disse, non mi era stato riferito nemmeno la metà della tua sapienza e della tua prosperità. Quindi, in questa storia, diciamo che abbiamo un'allegoria del regno glorioso e meraviglioso che Dio sta preparando per noi. Voglio che ascoltiate la lezione di stasera. Ricorrete alla fede e pensate in grande, non solo al presente. La Bibbia ha tanto da dire sul cielo ed è molto reale. Diamo uno sguardo ad alcuni versetti. Domanda numero uno della nostra lezione. Cosa promise Gesù al suo popolo? Cosa promise Gesù al suo popolo? In Giovanni 14, versetto 2, dice, «Nella casa del Padre mio, ripetete con me, ci sono molte dimore. Io vado a prepararvi un posto». E dice, «Quando vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me». In Ebrei 11, versetto 16, la Bibbia dice, «Perché ha preparato loro cosa?» «Una città». Beh, quando penso a una città, di solito, non penso cose positive. Sapete perché? La gente lotta con il peccato e l'egoismo. E dovunque si concentrano le persone, si concentrano anche i problemi. E dove troviamo il problema delle gang? Non tanto fuori dalle fattorie, quanto nelle città dove c'è una concentrazione di persone. La città e il cielo saranno differenti perché non ci sarà il problema del peccato. Non ci sarà egoismo. Invece di essere una concentrazione di persone egoiste, sarà una concentrazione di persone amorevoli. Sarà qualcosa di meraviglioso. Quindi ho dovuto rivedere la mia idea di città quando ho letto che Dio ne stava preparando una per noi, perché avevo un'idea del tutto opposta riguardo a essa. Apocalisse 21, versetto 2. «E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo». Ecco una foto dell'antica Gerusalemme. Sapete, la città che probabilmente ha conosciuto più conflitti ed è stata distrutta e ricostruita più volte di ogni altra città nel mondo è chiamata Città della Pace. E proprio ciò che significa Gerusalemme. Ieru, Città, Shalom, Pace. Ieru, Shalom. Città della Pace. È menzionata per la prima volta nella Bibbia quando il re, il primo re di Gerusalemme, non è David, Saul o Salomone, ma qualcuno di nome Melchisedec, che il Nuovo Testamento ci dice essere un modello di Cristo. Era un re di giustizia. Portò pane e vino per Abramo. Gesù è il nostro Dio di giustizia. Era chiamato il sacerdote del Dio Altissimo. Gesù è il nostro re, è il nostro sacerdote, è il nostro re di giustizia. Ci porta il pane e il vino nell'ultima cena. E Melchisedec era il re di un posto chiamato Salem, o Pace. Probabilmente era pacifico all'epoca, ma una volta che iniziarono a costruire la città, c'erano molte... Se camminate per la vecchia Gerusalemme oggi, potete vedere i fori dei proiettili nei muri, negli edifici. Sono ancora lì, non sono stati riparati. Solo un piccolo frammento, un buco, segni delle guerre che sono state combattute. Ma non è la vecchia Gerusalemme che verrà dal cielo. Qualcuno dice, oh Doug, come puoi prenderlo sul serio? È un castello in aria. Queste storie sul paradiso, voi cristiani avete bisogno... È solo una scusa per la vostra debolezza. Dovete vivere il presente. Ma poi quelle stesse persone non hanno problemi a credere che l'uomo possa creare una città nello spazio. Non è strano? Qualcuno ora dubita che possiamo costruire almeno una piccola città nello spazio? Non è ciò che abbiamo con la nostra stazione spaziale internazionale? Quindi, il mondo ride quando parliamo del cielo, ma sapete, Dio lo prende seriamente. Dio non batte ciglio quando parla del cielo. Dice che è reale. Quindi, quando dice porterò questa città che scende dal cielo, queste dimore, la gente guarda Star Trek e pensa potrebbe essere vero. Tutti quei fan che ci credono. Ma lo dice Dio e quindi... Non sono sicuro che Dio possa farlo. Hollywood può. Ma non sono sicuro di Dio. Io penso che possa. Cos'altro sappiamo della città santa? Vedremo numerosi dettagli che ci raccontano del cielo e di cosa accadrà lì. Apocalisse 21, versetto 10 e versetto 12 dice La santa Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, aveva un grande e alto muro. Con cosa? Con dodici porte. Dodici è un numero perfetto matematicamente, proprio per le costruzioni. Perché un piede è suddiviso in dodici pollici? Perché è uno dei numeri più facilmente e perfettamente divisibili. dodici è divisibile per uno, due, tre, quattro, sei. E Dio, nel costruire la città, ha usato un'aritmetica perfetta. Dodici è il numero che rappresenta la Chiesa. Ci sono un sacco di numeri insoliti. Quante sono le tribù di Israele? Dodici. Quanti apostoli? Dodici. E la Bibbia ci dice che la Nuova Gerusalemme ha dodici fondamenti. Dodici porte. E sapete di cosa dice che sono fatte le porte? Avete mai sentito l'espressione cancelli perlati? Non significa che sono intarsiati in madre perla. La Bibbia dice che ciascuna porta è una perla. Ora, quando guardate le dimensioni della città, se un muro è lungo 603 chilometri, dice che le mura sono di 144 cubiti ed erano spesse più di 60 metri, non è certo quanto siano alte. C'è un versetto che dice la sua lunghezza, larghezza e altezza sono uguali. Una delle porte avrebbe dovuto essere piuttosto grande. Avrebbe dovuto essere una perla bella grande. Starete dicendo Pastore Doug, non riesco a immaginarmelo. Non vi preoccupate. La Bibbia dice che non potete immaginare le cose che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Quando affrontando lo studio penserete a inverosimile, non riesco a immaginarlo. È esattamente ciò che Gesù ha detto. Non potete nemmeno immaginarlo. E se la perla è così grande, pensate a quanto devono essere grandi le ostriche in cielo. Ok? E in Apocalisse 21, 21 leggete E la piazza della città era di oro puro. Ho sentito che quell'oro si era... Se avessero potuto fare l'oro assolutamente puro, sarebbe stato trasparente. Il colore dell'oro è dato dal livello di impurità. E 14 carati circa è l'oro più puro che possiamo ottenere. Ma abbiamo 22 carati e varie forme di oro. Ma Giovanni qui ci dice che quest'oro, se è trasparente, è la forma più pura di oro in cielo. Cosa dice? La Bibbia riguardo all'approvvigionamento di cibo e acqua nella città. Mi entusiasma fare questo studio. Apocalisse 22, versetto 1 dice Poi mi mostrò il fiume puro dell'acqua della vita. Ogni forma di vita ha bisogno di acqua. Animali, piante, funghi, insetti, tutti. Non c'è vita. I batteri non possono vivere senza acqua. E in questo mondo la fonte di ogni vita sarà quest'acqua. Gesù ha detto Io sono l'acqua di vita. E prima dobbiamo accettare questo nelle nostre vite. Ma dal trono di Dio scorre questo fiume. Ora, io ho visto il Nilo, il rio delle Amazzoni, il Mississippi e altri tra i maggiori fiumi del mondo. Sapete, il rio delle Amazzoni alla foce è largo 80 o 160 km dove si congiunge con l'Oceano Atlantico. Quanto pensate che sia grande questo fiume? Quando pensate al fiume che irriga l'intero pianeta, il fiume principale che fornisce l'acqua al pianeta fareste meglio a pensare in grande. Sarà enorme. Inoltre, dall'altra parte, Apocalisse 22, versetto 2. Dall'altra del fiume si trovava l'albero della vita che fa 12 frutti e che porta il suo frutto ogni mese. E le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Questo è un albero da cui ogni persona è in vita sul pianeta ha bisogno di nutrirsi. Tutti i salvati hanno bisogno di mangiare da questo albero e penso che i rami non solo crescano insieme sopra il fiume ma penso che le radici possano toccarsi sotto il fiume e che il fiume in realtà vi scorra attraverso perché c'è un albero su ciascun lato del fiume. Tutte le traduzioni dicono la stessa cosa, un albero su ciascun lato del fiume. Il fiume vi scorre proprio attraverso, è un enorme, un imponente organismo e tutti raccogliamo da esso, dice e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Cosa significa? La gente si ammalerà in cielo? Devono correre all'albero e strofinarle sulla ferita? No, non c'è malattia lì. Non dice che le foglie dell'albero servono per curare le malattie, dice che le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Sapete, in questo mondo siamo tutti divisi, ci sono divisioni politiche, divisioni culturali, razziali, linguistiche, ma quando ci uniremo come un'unica famiglia sotto le foglie brillanti di quell'albero, tutte le divisioni e le differenze verranno guarite. Ci sarà unità poiché dobbiamo raggiungerlo insieme e nutrirci da quell'albero della vita. Quali sono le differenze tra la vita in cielo e la vita sulla terra? Ok, vedremo svariate cose che sono entusiasmanti. Le elencherò in A, B, C. Risposta A. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi. Non sarà magnifico. Alcune persone che magari non hanno mai visto avranno una vista perfetta. Avrete una vista d'aquila. Vedete, ogni cosa che avete avuto in questa vita sarà aumentata in cielo. Tutti i vostri sensi saranno infinitamente più acuti e penso che saranno effettivamente migliorati. Persone che qui hanno sempre avuto problemi di vista lì godranno di una vista perfetta. Persone che magari qui hanno avuto problemi di udito ci dice che saranno sturate le orecchie dei sordi. E in Isaia 35 versetto 6 ci dice risposta C. Allora lo zoppo salterà come un cervo e non solo a camminare un po'. Ricordate quando Pietro e Giovanni guarirono lo zoppo alla Porta Bella in Atti capitolo 3? Dice Ed entrò con loro nel tempio camminando saltando e lodando Dio. Passò dall'essere zoppo al saltare ed era così emozionato. Tutti i vostri sensi tutto ciò che avete sarà e poi dice che la lingua del mutuo non parlerà solamente ma canterà e tutti avranno una bella voce. Saprò cantare. Non vedo l'ora. Risposta D. Isaia 65 versetto 25 E tutte le creature lì ci saranno animali lì. Quanti altri animali c'erano prima dei problemi dell'uomo e del diluvio? Ci saranno molte altre varietà e si feriranno a vicenda? No. Volete sapere? È un fatto straordinario. Avete letto nel Mago di Oz che cantano leoni, tigri e orsi. Povera me. Questi tre nella foto li chiamiamo BLT che in inglese sta per orso, leone e tigre. Sono stati sequestrati a uno spacciatore ad Atlanta che li teneva come cuccioli nel proprio seminterrato in condizioni igieniche pessime. Sono stati salvati e adottati da un parco nazionale in Georgia. Poiché erano abituati a stare insieme sono stati messi nello stesso ambiente e si trovano benissimo. Vi siate mai chiesti cosa succederebbe se un leone, una tigre e un orso fossero insieme? Beh, se si conoscono da cuccioli possono andare d'accordo. Ed è ciò che la Bibbia ci dice Isaia. Questa è la risposta E nella vostra lezione. Isaia 11 versetto 6 Il lupo abiterà con l'agnello e un bambino li guiderà. Immaginate un bambino guidare un agnello ma vederlo guidare un agnello e un lupo e dice che il leone si nutrirà di paglia come il bue. Quanti di voi hanno letto il libro di qualche anno fa Little Tyke la storia di una leonessa vegetariana? Una famiglia aveva adottato una piccola cucciola in realtà la mamma stava uccidendo tutti i suoi cuccioli e quindi la portarono via alla madre che stava in uno zoo. La diedero a una famiglia i Westbos nel nord della California e loro la adottarono. Le diedero del latte e una volta superato il periodo provarono a darle della carne. Lei non la mangiò ma era attratta dai cereali. Questa leonessa semplicemente si rifiutava di mangiare carne. Giocava con gli agnelli e gli altri animali domestici della famiglia e non morse né ferì nessuno della fattoria. Mai in tutta la sua vita. Crebbe e diventò un'imponente leonessa. Non assaggiò mai il sangue o la carne. Era una leonessa vegetariana. Quanti di voi hanno sentito questa storia? Cercatela. È Little Tyke. La storia vera di una leonessa vegetariana. Una storia affascinante. Risposta F. La solitudine gioirà e fiorirà come la rosa. Potete trovare i luoghi più desolati al mondo ora e ci sarà un bellissimo giardino. Sapete, ora ci sono posti che sembrano terra bruciata ma non in cielo. I bei posti saranno infinitamente più belli e i deserti saranno comunque belli. I colori che vedete ora sono niente in confronto ai colori se poteste vedere proprio ora il cielo, se poteste resistere, se poteste sostenere la gloria di tutto ciò e la sua magnificenza, se poteste sentire il canto degli angeli, se poteste sentire quanto più buono infinitamente e delizioso sarà il cibo. Qualunque sia la vostra sensazione, moltiplicatela centinaia di volte. Ogni cosa in questa vita è diventata noiosa per via del peccato. Tutto sarà migliorato e sarà così per l'eternità. Ancora risposta G, Isaia 33 versetto 24 Nessun abitante dirà io sono malato. Nessuno si ammalerà lì. Non sarà magnifico. Non dovrete più preoccuparvi di pagare il ticket in cielo o dell'assicurazione sanitaria. Risposta H, Apocalisse 21 versetto 4 non ci sarà più la morte né cordoglio né grido perché le cose di prima sono passate. Ciò che ottenete lì lo otterrete per sempre non dovrete mai avere paura di perderlo. Eppure le persone sono rilottanti esitano a dare il proprio cuore a Gesù e a seguirlo. Numero 6 che tipo di corpo avranno i santi nel regno? Saremo fantasmi fluttuanti nell'aria? Filippesi 3 versetti 20-21 Il Signore Gesù Cristo il quale trasformerà il nostro umile corpo affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso. Il Signore ci darà un corpo glorioso. Il Signore ci darà un corpo glorioso. Quando Gesù risuscitò dai morti era reale? Ricordate? Uscì dalla tomba apparvi ai discepoli e nella camera alta disse loro Luca 24 versetto 39 Guardate le mie mani e i miei piedi perché sono io. Toccatemi e guardate perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io. Cosa sta dicendo? Sta dicendo non sono un fantasma e poi mangiò davanti a loro per dimostrare che era reale. Che tipo di corpi avremo? Corpi reali ma avremo quattro dimensioni vedete ora viviamo in tre dimensioni dopo che Adamo ed Eva peccarono persero un'intera dimensione la dimensione spirituale che verrà ripristinata e avremo questi gloriosi ed eterni corpi. Saremo capaci di parlare con gli angeli vedremo Dio così a quel punto saremo in sintonia con il mondo spirituale gli spiriti buoni gli angeli Quali altre promesse si trovano nelle parole di Dio su questo regno meraviglioso? In Atti capitolo 3 versetti 20 21 dice Ed egli mandi Gesù Cristo che il cielo deve ritenere fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose questo significa che tutto sarà restaurato una domanda amici quanti di voi vogliono essere in quel regno e seguire Gesù là allora se lo seguirete là allora dovete prima seguirlo qui adesso questo è tutto coloro che lo seguono qui e ora potranno seguirlo là allora non potete cambiare idea all'ultimo momento decidendo che volete essere cristiani alla fine del tempo della prova Dio vi sta chiamando ora i ricordi tristi o dolorosi di questa vita preoccuperanno le persone in cielo risposta Isaia 65 versetto 17 e le cose di prima non si ricorderanno più e non verranno più in mente non dovremmo più preoccuparci del prima non so voi ma io anche quando mi trovo qui ci sono delle cose che al solo pensarci mi fanno rabbrividire ho davvero detto questo ho davvero fatto questo ho esperienze dolorose che vorreste dimenticare alcune persone hanno provato la violenza e cose che hanno causato molto stress i soldati e pensate avrò quei terribili ricordi per sempre Dio dice che ci guarirà tutta la bellezza la gloria lo splendore la meraviglia i piaceri del cielo faranno eclissare e sostituiranno tutti i ricordi dolorosi di questa vita e alla sua destra vi saranno delizie in eterno quali altre emozionanti promesse Dio ci fa riguardo al suo regno imminente vedremo un paio di cose ora risposta A in Isaia 35 versetto 10 dice i riscattati dall'eterno verranno a Sion con grida di gioia e un'allegrezza eterna Dio è un padre celeste amorevole e la Bibbia dice che egli non rifiuterà alcun bene alcun bene a quelli che camminano rettamente non vi priverà di nessuna cosa buona alla sua destra vi saranno delizie in eterno ma non troverete mai il piacere se non fate come Dio vuole ad ogni modo salterò al nostro prossimo versetto questo è il versetto preferito di mia moglie salmi 16 versetto 11 alla tua destra vi sono delizie in eterno le delizie non sono una cosa brutta Dio vuole che godiate dei piaceri vi ha donato tutti i sensi vuole che siate benedetti dal vostro cibo ma vedete nel mondo capovolgiamo le cose pensiamo di dover andare alla ricerca prima dell'egoistico piacere fisico e poi risentiamo dei postumi tutto il giorno risposta C Zaccaria 8 5 le piazze delle città saranno affollate di ragazzi e ragazze che giocheranno nelle sue piazze sapete in alcune nostre città siamo piuttosto spaventati mia madre ci lasciava giocare tra la 42esima e la Broadway è difficile crederlo ora ma in cielo ci sarà qualcosa di cui avere paura direte ai vostri figli andate a giocare per strada andate a giocare per le strade d'oro non c'è nulla di cui preoccuparsi là fuori giusto nessuno farà loro del male risposta D Isaia 40 versetto 31 dice si innalzano con ali come aquile corrono senza stancarsi e camminano senza affaticarsi sapremo volare sì come dice quell'inno sapete rocca eterna quando l'ali scioglierò certo è solo un inno ma io credo dice si innalzano con ali come aquile io credo che sapremo volare qual è la più alta ricompensa del nuovo regno di Dio questa è la parte più bella in Apocalisse 21 versetto 13 dice e Dio stesso sarà con loro non è abbastanza la Bibbia dice di novilunio in novilunio e di sabato in sabato ogni carne verrà a prostrarsi davanti a me potremo prostrarci davanti a Gesù lui sarà il predicatore nessuno si addormenterà durante il sermone quando predicherà giusto? e sapremo che tutto ciò che dice è buono e vero Dio stesso sarà con lui lo vedremo cosa causerà l'esclusione delle persone dal regno celeste di Dio qui le cose si fanno serie Apocalisse 21 versetto 27 e nulla di mondo vi entrerà mai vuol dire che se c'è qualcosa di impuro o peccaminoso non vi entrerà la Bibbia dice che Satana fu cacciato dal cielo per aver peccato il cielo è un luogo puro è la presenza di Dio dobbiamo essere purificati ora e preparati attraverso il sangue di Cristo a vivere in quel regno quindi non possiamo aspettare la venuta di Cristo perché Lui ci trasformi ora è tempo per noi di diventare nuove creature la Bibbia dice che oggi è il giorno il Signore può darvi un cuore nuovo le vecchie cose vengono dimenticate quando ci si converte tutte le cose sono nuove viene spesso chiamata la rinascita e dobbiamo rinascere ora Apocalisse 21 7 chi vince chi vince erediterà tutte le cose lo dice sette volte in Apocalisse 2 e 3 a chi vince a chi vince vincere cosa siamo tutti prigionieri dei nostri peccati e attraverso il potere di Cristo possiamo essere trasformati e divenire nuove creature è possibile tutte le cose possono succedere con la preghiera trascorrete tempo con Gesù fissate lo sguardo su Gesù pensate a queste cose inizierà a diventare parte di voi qual è la chiave per avere successo in questa vita e nella prossima secondo Gesù Matteo capitolo 6 33 lo conoscete è dove abbiamo iniziato ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte Salomone quando amò il Signore pregò Signore dammi la saggezza pregò per il regno del Signore pregò per la giustizia di Dio Dio disse poiché tu hai cercato prima questo io ti darò tutto il resto ti darò la saggezza ti darò una lunga vita ti darò prosperità ma cerca prima il mio regno quella era la chiave e lo è ancora oggi se voi rendete la conoscenza di Dio la condivisione di Dio la vita per Lui e la vita per gli altri la vostra priorità Lui vi offrirà quel meraviglioso regno grazie a tutti